ciao a tutti ragazzi da TFG on demand oggi blitzcrank prendo il grab e faccio il grab con blitzcrank maestria 7 sopra di caccia rotto la ce l'ho la maestria 6 ma devo sbloccarla perché non ho l'essenza blu e io non ho ancora la maestria con jinx l'indica non ha la maestria con jinx sperimentosamente orribile tali che sapete benissimo tutti blitzcrank abbiamo trash caitling perché io devo grabare caitling in teoria dargli il pugno poi tu una volta che ho dato il pugno devi inizialmente appena io gravo dovresti mettere le panaglie sotto le tenaglie le tenaglie esatto e poi pam prendere e poi prendere l'occisione di caitling farma pure ora che bravo che far marina guarda adesso mentre la prendo la prendo la prendo la prendo non l'ho presa boh mi ha raggiunto per non prendere un po il cazzo cosa vuole fare quel trap penso che non lo vede io ti sto dietro io sto tra te e trash io solitamente come sapete sono fissato con la riduzione ricarica io voglio avere il grab ogni tre secondi se è possibile no so che non è possibile ma san più riduzione ricarica o meglio sto perché così poi vado avanti faccio il grab prendo il grab con blitzcrank ok hai le trappoline noi siamo a livello 2 lo solo all'uno ecco libri che 3 mi ha grabbato ma non mi insegue giustamente perché è inutile essere nel support poi uso le rune da support tank quindi quindi attualmente di solito ho visto usare blitzcrank anche con le rune da mago tipo no ma scusami ma io sinceramente preferisco fare un po al tank così mi avvicino prende lo 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 scusa se io se non vedico le 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 cose le cose azzurre vuol dire che non ce l'ho o nautilus attenzione il nostro nautilus si fa la prima uccisione è rimasta anche a piena vita tra l'altro vado 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 con blitzcrank ma dove cazzo grabbato eri deciso se prendere blitzcrank e si blitzcrank 3 non vediamo nessuno di due nel dubbio non ho preso nessuno di due esatto vedendo chi era in mid ma perché lo sarà peggio tipo cosa vuoi paragli a quella che la silenzio qua ecco perfetto bravo attenzione la trappolina sparagli sparagli grandissimo attenzione non posso salvarti non posso la terra sono senza mano senza niente scusa senza mana senza tutto ha flashato anche per ucciderti cazzo anche ho flashato per uccidere un altro vabbè ci sta attenzione sono un po nella cacca coi minion mio sì perfetto ma mu mu vieni dammi una mano britzcrank qua morto ok e niente aspetto ottimo vai un lume qua ce l'ho io aspetta dammi tre secondi oh ma che nautilus è potentissimo ha fatto una serie della trattazione che ha tre uccisioni in auto e boh adesso sorreggono attenzione taylor vuole dire come pesi che ha fatto nel mondo di youtube ok guarda che è un colpo per un primo palo 3 è incredibile giustamente lo farei anch'io non ti palli 3 e cosa faccio non lo so aspetto vabbè pagliamo vabbè chiediamo quando abbiamo nautilus in po eeeh nautilus lì che spacca il pull acciogato perfetto niente aspettiamo perché io adesso sinceramente ho livello abbiamo lì 6 noi a meno no no tu non ce l'hai io sono 5 ancora cazzo eeeh aspetta un attimo ok guarda che palle della sua roba aspetta un'idea aspetta un'idea aspetta un'idea aspetta un'idea eh si perché non sono mai andato via dalla rain aspetta eh adesso mi faccio prendere eeeh no cazzo vieni tu qua da me porca tu no cacchio ah hai sbagliato ok via 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 non importa non importa ci possiamo riprovare tra pochissimo attenzione attenta non vado uso la pozione non mi vale avere meno vita del normale per ingaggiare attenzione a trash che c'ha l'ultima aspetta un'idea aspetta un'idea ah ce l'attivano anche si si c'ha l'ultima che brava vieto io perché non anche io eh anche ketening perchè sono usciti dalla lane aspetta perfetto quante soldi hai? 1.2 devo aspettare 1.3 si prendere 1.3 1.3 1.3 1.3 attenzione se vuole grabare quanto la farm uuh è molto più forte è molto più farm bene così molto no però insomma è più farm eh pam perfetto però tu hai un'uccisione chiedi in zero perchè ha l'uccisione prima ma che cosa sta facendo quel nautilus hai visto? ma la sandwich è bomb aspetta aspetta ma che nautilus fa schifo ne ha 4 aspetta la grabbo la grabbo la grabbo la grabbo che numero che mi ha fatto hai visto? ok boh eh cosa facciamo? aspetta non c'è uno? ho bisogno ancora di mille aspettiamo di qua ancora mille? no accendo scusami ah ho fatto un cazzo ho detto mille eeeh stop al divertimento è brava quella Katelyn mi ha schivato bene il colpo attenzione merda ma vaffanculo perchè colpiscono a me ma sto adesso mi tirà l'ultima mi tirà l'ultima cosa hai che metterà l'ultima? si vado in base guarda nautilus aspetta aspetta lì ho ucciso sti minuti nautilus che cazzo ha? vabbè vabbè prendo questo ma no eh guarda che si arrendono altrimenti ma mi interessa se ci arrendono fate ammazzare un paio di volte ma che c***o vediamo adesso scusai ciogatta livello 6 nautilus livello 8 aspetta vediamo un po' la bib lo sta buildando tank perfetto oddio l'abbiamo trovato finalmente guarda 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 vediamo 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 se lo uccido vediamo se lo uccido guarda no 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 oh c'è twisted fate si è teletrasportato attenzione oh dai non ci credo non ci credo aspetta aspetta sta arrivando ecco grande bravi twisted fate ha tirato le cape perfette bravo gg guarda dove sono scusa gli altri non lo so guarda che si sono arresi dove c***o sono? andiamo a fare barri andiamo a fare barri c***o ma merda oh ma oh ma perché succede sempre così? facciamo il drago a mumu non so facciamo il drago a mumu mumu vedi che vado a lui a tancare ok aspetta una che metto metto il lume qua se c'è qualcuno lo gravo male ok continuiamo a colpire il drago io sto qua così se qualcuno arriva colpisce il bliss colpisce eccolo la vedi ecco trash attenzione attenzione per sé che l'hanno non mica ce l'hanno preso vero? no oh trilligan aiutami c***o eh quello che posso lo sto facendo eh non è che ce l'altro oh devo andare via 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 aiutami twisted c***o carta gialla lo blocchi no eh porca p***a ma perché mumu esploso poi? non lo so quanta verità ma il drago che te l'ha fatto alla fine? noi spero perché non lo so abbiamo noi se è blizzcrunk io l'ho ucciso ahahah come blizzcrunk questo è scarso voglio stare veloce 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 più velocità di movimento possibile non faccio ragazzi le scarpe gialle queste perché mi da fastidio che ogni volta che un minion mi colpisce rallento tantissimo invece con queste ho un po' meno velocità sempre più velocità rispetto alle altre scarpe però non rallento mano quindi mi va meglio aspetta lo grabbo 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 lo preso ora lo prendo di nuovo dai dai tiragli quel cazzo di trappolino eh non l'avevo porca f*****e perca colpite tutto colpite qualsiasi cosa no 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 hai scappato ho capito il grasso di quel che ora ho capito aspetta aspetta eh non devo usare mal altrimenti abbiamo penso non lo toccare mettiamo il giuratore cosa facciamo fare dai 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 prestito 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 3 stila 3 stila 3 no cazzo è morto 3 non è morto ma l'ultima non ce l'avevi no perché altrimenti gli avrei tirata ce l'hai l'ultima non ha vol ma non è caputa no sempre senza mari ma ti ho detto che ero senza niente brutto stupido ecco hai detto fateci un po di volta sei contento così adesso che fin l'ho ucciso rinnegan ha fatto una doppia decisione credo credo il drago dell'oceano e questa è questa nuova sinceramente e dai che mettono il luma o il lumi lasciano a mettere mai lumi o il caputa se mi faccio il blu non più problema che non arrivo e via e via questo andiamo vabbè andiamo ancora piena vittoria perché lo prendo io prendo 3 eccolo qua tirati le tanaglie guarda che non tirare tanaglio incredibile tirate visto scusa non lo uccidevi via ma è vista che leggere la tina 23 da quando grabo non dopo allora io dopo che lui era stato preso allora da che mi vado avanti va davanti va davanti cerchietti in possendo il capo giallo di respirare grande turista da ucciso bravo questo il nostro ci sono milioni ma non aspettiamo di quale c'è fermiamo in mini un loro ok 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 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 10 10 10 11 11 12 12 di 11 11 12 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 13 13 12 12 12 13 13 13 14 13 13 14 13 13 13 13 14 14 14 14 15 E adesso andiamo avanti di qua Farma! 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 Via! Aspetta! Ok! Aspetta che metto un lume qua Se Giuliani Se Giuliani Come cazzo si chiama? Dov'è Ketling? Eh lo so Scusa un po' Farma Attento Se vedi che sei in difficoltà La reta sono qua Eh! Attenzione arriva su Giovanni E trash! Via! Via 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 scappa Fuggi sciocco Bene E arriva anche Tsogat E arriva anche Tsogat Guarda che c'è Tsogat Allora andiamo via Non grabbare quello lì Nella realtà è una merda È stato menato tutto il tempo da Nautil Si ho capito Ma sono sicuro che basta che mi guardi e esplodo Prenderà a Zir Io grabo a Zir Li tiro l'ultima così non può flashare E ritiro le penali Esatto E dopo li do il pugno Così lo sollevo da algo Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Ok Flashato Ecco quello Flashato Tira le break Non le ho tirate? Adesso Ma devi darmi il tempo di tirarle Sai com'è? Che cazzo Vado via eh Aspetta no Quanto è che prende questo minion grosso? È mio il minion eh? Perfetto Perfetto Ho tre cose Perfetto Perfetto Puoi farti il drago? Andiamo a fare il drago Oh Guarda che sto morendo Dove andare via Ciao Vado a coprire questa cosa qua Ok Così mi recupero un po' di vita Emana Ok bene Guarda che si deve mettere il drago? Oh oh Il drago Il grango Sopra la cosa verde Vado in base io eh Comincio a farmi anche questo Aspetta Ho quasi 400 Posso scrivermi l'oggetto e arrivo Andiamo a farci il messaggero della landa Lì naga Facciamo il 2 Ti guardo la roba vita Si Ce la facciamo O meglio Ho il 3% e la roba vita Ricolpiamo l'occhio continuamente Vieni Ok No È sparito È sparito adesso Ma porca p***a Eh niente No il baro non lo facciamo No in 2 non lo facciamo Quindi andiamo in mid Cosa c'errà Eh andiamo a prenderlo Via 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 Ok perfetto Adesso grab anche uno di loro Eh preso Ok Ah cazzo No Bam si Bravo doppio uccisione Cazzo Aspetta subito il grab di nuovo eh Aspetta eh Aspetta eh Però No Non mi va di prendere il crash Cazzo No Vado a prendere Katie Aspetta un'altra che faccio il minion grosso Ma va a cagare 3 Ma cosa vuole questa? Spara lì gatto Stava divertimento Eh niente Sono in 3 Sono in 3 Sono in 3 e fanno male Ma fanno male oddio Ci ho perso una doppia Quanti soldi hai adesso? Poi comprati l'oregano di luna Puoi comprartelo Puoi comprartelo No Mi servono un 1.200 Mi ha pulato un coso Va bene va bene In culo in culo Ma donna che schifo Che fa quando tirò il missile Eh perché il missile fa anche danno critico Quindi farsi danno critico a zone In Torino Eh Eh Guarda questa Questa Non volevo grabbarlo Perché è trash Però Potevo Grabo Azzir Cosa faccio? Grabo Zogat Grabo Zogat Vieni qua Zogat Bam Sparagli Eh mi ha tirato l'ultimo Morto Benissimo Altra decisione per Rinnegan Ottimo ottimo Rinnegan sta facendo una serie decisione Adesso prendo anche quella Aspetta eh Faccio un flash grab Cosa dice? Vai No 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 Vieni qua 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 L'ho grabbato Ok morto dai che lo uccidi dai che lo uccidi Perfetto Noo va bene dai Non l'hai preso tu? No l'hai preso tu ma non importa No come l'ho preso io? Vabbè non importa Avrei tirato per sbaglio Eh no il fulmine Il fulmine La passiva Vabbè non importa Si perfetto Si perfetto Allora andiamo Prima ho fatto la salute Ho 3.000 di vita Già Ho già 3.000 di vita Rimini Sai che bello Andiamo Io vado a fare il rosso Si mi potrebbe sentire Direi di si C'è il rosso C'è il rosso C'è il rosso Il rosso c'è Attenzione Ti aspetto Sai cosa mi piace l'ultimo dei jeans Perchè non hai detto che lo colpisci Perchè lo colpisci Perchè lo colpisci come te l'ho rottigata Fine Ok Tuo Quanto a me fa un cazzo Ottimo perfetto Andiamo C'è Katelyn Mill che non aspetta altro che noi per un solo ucciso Aspetta un attimo che metto un lume qua Facci giro da questa parte Io eh Perchè vorrei grabbarla da dietro Se riesco Eh c'è C'ho Gata c'è Azir Attenzione Ma un lino da cinza che faccio Aspetta 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 E tu non vai da nessuna parte E adesso vieni qua Perfetto ammazzatelo Benissimo eh Breezecrunk uccide il jinx un'altra uccisione Perfetto Adesso lo metto qua Uccido questi Sì Ottimo Mettiamo questa torre Ce la facciamo appena che muove con il minion? Sì Sì La faccio io dai Vai tranquillo Ok perfetto Andiamo in Andiamo a quei O O 10 di gente qua Eh L'ho ucciso Arrivo 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 sei giovani Vai Uccidete la tronca Bene così Adesso grabbo anche 3 Se riesco Ecco lo grabbo Lo grabbo Lo grabbo Perché non riesco a correre? Aspetta eh Vieni qua Ottimo R E io me ne vado Ok L'avete ucciso? No Ce l'avete fatta Perfetto Non importa No Un'ulta giocatore Esatto Ce l'ho provata perché effettivamente trash ha più vita per arrivato Cosla Che è arrivato? Ma c'era un po' di vita Sì Sei giovani Si Bam Facate che mi prendo stop minion Ok 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 Eh Ho già recuperato un po' di vita Possiamo Ok Grabbo 3 Andiamo 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 Ma se c'è Twisted Merda Cazzo Eh Non importa Ma faccio il grabbo Ma faccio il grabbo Sicuro Si Quello dell'acqua Non darei tenersi la mano No quello è quello dell'aria Questo è quello dell'aria? Si Beh se corriamo molto più velocemente per scappare Beh guarda che tu scherzi Ma va benissimo Arrivi nel punto dei preferiti della mappa molto prima Tutto prima Ok Lei Vediamo sta cosa Perchè un attimo che metto un boom qua intanto No ma sono tirati della bomba Sì Ma perché non riesco a metterlo? Ogni tanto fa così Non c'è tipo bugato Ok Bomba di un bug Però Un po' di Ciò grazie Lo sta buildando Lo sta buildando tank Quindi in Toria non fa danno L'unico che fa danno magico è Azir Che ha zero uccisioni Quindi non dovrebbe essere un grosso problema Mi piace Ok adesso io ho anche 3 mila di vita Quindi dai Te lo tankerà abbastanza bene Ma guarda il twister fail Arrivando il Perfetto Eh se faccio finta Oh cazzo la trappola Oh cazzo la trappola No niente non è venuta qua Ah vieni a ingustire Shilani Andiamo a uccidere sei giuliani Ecco ma come Via 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 Preso Ma che cazzo Uccidetelo Bravo Lo prendo io Bene così Muori Azir Ma come ho ucciso io Basta Eh la Serie di uccisione Ma non lo faccio apposta Io non voglio farle Poi Cioè Visto che ho preso Ho preso Azir Tra i suoi scudi Tra i suoi cosi Tra i suoi soldati L'ordine è stato imposto Opla preso Cazzo Bam Ottimo 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 Sto pancando la torre Butta giù la torre Butta giù la torre Ok Bene Perché mi stava rompendo un po' le palle quella torre Eeeh Qua invece non c'è nessuno Eccola 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 Opla presa Bene Che barbabietole Che barbabietole Si sono arresi Eeeh Non è giusto Io l'altra sera Stavo perdendo tipo 30 assets Eh non ti sei arreso No no perché non è giusto Se il mio compagno di squadra Si fa fidare l'avversario Dovremmo dare l'onore a un altro Sì No l'ho dato a te Io l'ho dato a te Ma come ha meno? Ma che palle Mmmmm Gioco di squadra Micheo è stratega Che lo faccio Sempre primo Stratega O gioco di squadra Stratega Ciao a tutti ragazzi E al prossimo video Quanto giochiamo in bot Diciamo sempre male Inderibili Perché sono fortissimi Ciao a tutti E al prossimo video